Ciao adorabili amici, continuano i contenuti sul Commander. Dopo il mio mazzo, che tra l'altro gioco in cartaceo, Gruul Draghi, vi porto il mio amico Pantlazza, che vorrei dire è il mio main deck. E rispetto al mazzo Gruul Draghi, che se non avete visto vi lascio il link in descrizione al video, Pantlazza costicchia parecchio perché, come sapete, sono un appassionato di dinosauri. Questo deck ce l'ho da un sacco di anni. Prima era Ghishat, adesso ho messo in panchina Pantlazza e vi spiegherò anche il perché ho scelto di cambiare il Commander del mio deck storico. Sono anni che appunto ricerco dinosauri con art tamarre e carte molto zarre, quindi ho pensato di portarvi questa deck deck mostrandovi proprio le mie carte cartacee. Così che, se mi vedete un evento, sapete, no, no, non rapinatemi che qua sono soldi e all'ambulanza questo è il solo pensiero di perdere questo mazzo magari a un evento, a una fiera. Quindi no, lo proteggerò con la mia vita perché oltre a avere un certo costo, che comunque potete vedere su Moxfield, perché il link comunque vi lascio la lista completa così è più facile da vedere, vedrete il costo di Cartrader. Questo mazzo ci sono molto legato e con Pantlazza ho trovato un Commander dinosauri che effettivamente mi piace un sacco da giocare, molto di più di Ghishat. Però sul confronto fra Pantlazza e Ghishat torneremo in seguito perché voglio portarvi un approfondimento sul aiutarvi a scegliere qual è il miglior Commander per la tribe dinosauri. Poi, altra questione, se vi piace questo deck, se ci sono delle carte che vi interessano, vi ricordo che sempre in descrizione vi lascio il mio link come referral per Cartrader. Su Cartrader per il primo ordine avete il 5% di sconto. Ne ho già parlato durante la deck deck di Grul Dinosauri di quanto amo questo servizio e di quanto sono contento di aver iniziato a collaborare con loro e quindi non mi dilungherò oltre. Però ricordatevi che il 5% non è affatto male. Detto questo, questa deck deck, visto che utilizzerò queste carte figurine cartacee, quindi non è proprio facile farla come su Veggie Carena, ho preso appunti. Non vi faccio vedere quanto è brutta la mia calligrafia, è tremenda, però lo suddividerò in parti. La prima parte vediamo il ramp, che è un po' la base di questi mazzi con carte super costosi. Poi vediamo gli utility e dei dinosauri, chiamiamoli filler, cioè un po' flex che potete cambiare anche in base ai vostri gusti. Poi vediamo le protezioni, sempre importante proteggersi, amici miei. Poi vediamo le interazioni e i removal. Vediamo, infine, infine un cavolo, c'è un sacco di roba, mannaggia. Poi riuscissi a scrivere bene, riuscirei anche a leggere quel che scrivo. Comunque vediamo poi le carte che ci fanno pescare o in generale fare value. Tutori e infine i giga dinosauri che vogliamo tutorare per vincere le partite. E anche una breve visione delle terre, che anche lì ci sono un po' di chicche. Comunque partiamo dal funzionamento di Pantlaza. Ora non entrerò nel dettaglio di tutte le carte, se no va bene che un video boomer diventa estremamente lungo, non solo boomer. Comunque Pantlaza, il favorito da Zeogarbe, costa due incolori, uno rosso, uno verde e uno bianco. Creatura leggendaria dinosauro, quindi capite bene che l'identità del nostro commander è Naya. È un 4-4 che dice, ogni qualvolta Pantlaza o un altro dinosauro entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi fare Discover X, dove X è la costituzione di quella creatura. Puoi farlo solo una volta per turno. Come funziona? Discover, praticamente giochiamo Pantlaza, facciamo Discover 4, cioè esiliamo la prima carta del nostro mazzo, che poi mettiamo in fondo in ordine casuale, finché non troviamo una magia da poter lanciare con costo X o inferiore. Quindi giochiamo Pantlaza e abbiamo subito Discover 4. Di base io lo preferisco Pantlaza a Ghishat, perché a parte che a me Discover piace un sacco come meccanica e questa componente RNG mi fa volare ed è decisamente meno punishing di Ghishat, mi piace perché mal che vada noi rampiamo. Cioè proprio il peggio che ci può succedere mettiamo qualcosa che ci fa rampare, cosa che ci permette, se un avversario ci toglie Pantlaza, di rigiocare Pantlaza più facilmente con la Commander Tux. Mi piace un sacco Pantlaza e poi vedrete che ci sono delle sinergie super spicy. Quindi partiamo subito con una carta super interessante nella sezione ramp, che è Spoils of Victory. Perché gioco Spoils of Victory quando ho carte ramp decisamente più forti? Fondamentalmente perché questo mazzo ha anche carte a cui sono affezionato. Spoils of Victory in questa versione, se ci fate caso, ha il nome in inglese e il testo in italiano. Mi sprint, farlocca, non lo so, fatto sta che ci tengo un sacco, anzi se c'è qualche esperto fra di voi di mi sprint sa dirmi quanto possa valere, gliene sono grato. Comunque il motivo per cui gioco Spoils of Victory è semplicemente perché nel mio Pricon Prosh che comprai un botto di anni fa c'era questa carta misprintata, che quindi non dovrebbe essere fake. Però se ci sono esperti che vogliono dirmi quanto vale, fatemi sapere nei commenti. Pacchetto ramp, abbiamo una serie di lungo sguardo, che poi ritroviamo con altri istantanei che vediamo dopo, che non ho messo in ordine. L'Ossodonte fuori controllo è Alking Raptor, primi due dinosauri che vediamo fra le 99, che ci permettono di rampare, l'Amadonte ci fa mettere più terra in gioco, Alking Raptor fa un diretto ramp di due. Poi abbiamo l'Icona del Progenitore, questa dal Pricon dei Veloci Ramptor. Mi piace un sacco, ora gioco sassi ben più potenti di questo, però mi piace la possibilità di poter lanciare con flash le magie dinosauro. Può funzionare con qualsiasi tribe, possiamo scegliere che tribe che possiamo lanciare con flash. Il bello di farle con flash è che con il nostro amico Pantlazza, dicendo che triggera una sola volta per turno, possiamo fare i dinosauri nel turni degli avversari, così da poter ritriggerare il discovery di Pantlazza. Questa carta mi sta piacendo un sacco. Downside è che è un sasso a tre. Herald's Horn, questa semplice semplice, costa tre, riduce il costo dei nostri dinosauri, ci fa eventualmente pescare se abbiamo un dinosauro on top, quindi ci fa generare una sorta di value, carta con cui mi trovo benissimo. Tributo asfissiante, incantesimo asfissiante, asfissierete i vostri amici al tavolo perché tutte le volte dovrete dire paghi due, paghi due, paghi due, e loro spesso non pagheranno due e con questo maledetto incantesimo genereremo un sacco di tesori che ci permetteremo di castare i nostri giga dinosauri super costosi. Ricordatevi che non dipendiamo da Pantlazza per vincere, ma abbiamo come Winkon gli altri dinosauri. Faccio subito una premessa che mi sono scordato di dire prima, mannaggia a me, me l'ero segnata, ma maledizione, non so scrivere in una calligrafia leggibile. Io come tipologia di power level coi miei amici gioco a commander power level alto ma senza combo, che si chiama, nel mio gergo e nel gergo della mia crew, combat commander. Non voglio inventare nessun formato, per carità di Dio c'è già un sacco di gente che ci prova, però il concetto è che giochiamo carte di power level alto ma senza combo, quindi combless. Quindi se mi dite, ah ma metti sta combo, no, non gioco con combo, per scelta filosofica. Chiusa parentesi. Andiamo avanti col nostro ramp, abbiamo Nature's Lore, Bella Foil, abbiamo Tree Visit Full Art, qua tutte sbustate che trovate sul canale, Calpestatore Topiario, che con quest'art mi fa volare. E poi passiamo, sì, passiamo a una sezione artefatti interessante. Ark and Signet Foil, con quest'art di Ixalan, non l'ho sbustata sul canale ma mi piaceva troppo e l'ho comprata. Qua incubatore di Urza, che riduce di un secco 2 il costo dei nostri dinosauri, quindi altra magia che rampa. Soul Ring, che sbustai parecchio tempo fa con il set dedicato a Commander, che non mi ricordo più come si chiama. High Level of Professionality in questo canale. E la Mana Crypt, bam! Allora quest'art è diventato lo sfondo del mio desktop. Ci sono estremamente legato perché vale un botto di soldi, quindi quasi mi sento male, come dire, a tenerla in un deck che gioco così con regolarità di fianco a un sacco di birre. Però allo stesso tempo penso che sia un po' un simbolo del mio ritorno, perché l'ho sbustata con l'unboxing del Collector Booster di Lost Caverns of Ixalan, e quindi la vivo così in maniera un po' filosofica. Forziere del Mana, dritto per dritto, altra carta un po' costosa, costosa come il loto di gioiello. Anche qui Power Level alto, no combo, quindi anche se degenero subito con Pantlazza, gli altri poi me lo rimuovono e quindi abbiamo deciso di giocare il loto gioiello. Ma passiamo alla sezione un po' filler, quindi vediamo un po' di dinosauri, come questo Hunting Velociraptor, che non è super sinergico, ma è un cacchio di Velociraptor di Jurassic Park. Dinosaur Egg, per due mana facciamo Discover 3 e in più si pompa e ci permette di fare ulteriormente Discover, quindi anche questa carta qua l'ho testata parecchio e mi sta piacendo. Alla Sorale di King Gialli, questo 2-3 fa entrare in gioco le creature degli avversari tappate, super interessante anche perché gioco spesso contro mazzi aggro. Trumpeting Carnusaur, secco removal, volendo, oppure altro Discover, non affatto male. Ruri Carnusaur, anche lui, Toughness 5 e in più un altro modo per pescare. Crusher, per fare un sacco di token travolgere devastanti. Altisauro, curioso, un po' macchinoso, ma ci permette di pescare in più a Toughness 5, quindi per Pantlazza è un Discover 5. Frillback, principalmente per togliere incantesimi o artefatti o direttamente cimiteri. Cresta del Sole, imitatrice, questo dinosauro super interessante, copia il dinosauro che entra in gioco e quindi ci permette di fare cose sporchissime, anche questo qui direttamente dal Precon. Regisauro Capobranco, direttamente dalla prima Ixalan, fa da rapidità ai nostri altri dinosauri, quindi rende ancora più esplosivi i nostri turni con il buon Pantlasa. Pugnacius Hammer School, anche qui tendenzialmente non è che siamo un aggro, perché è pur sempre commander, però a costo 3 giochiamo un 6 di Toughness, quindi Discover 6. Trashing Brontodon, carta super interessante, quest'arte è spettacolare, bella foil. 3-4, lo sacrifici e spacchi un artefatto è un incantesimo. Ferocidon, qua soprattutto perché io gioco con un sacco di player che hanno carte che fanno guadagnare punti vita, è essenziale. E passiamo ora alla sezione protezioni. Protezioni, ora, in realtà Ephemerate è sì una protezione contro Spot Removal, perché tu fai efimerare il buon Pantlasa, ma è un altro modo per un solo mana di far triggerare Pantlasa nel turno degli avversari. Pantlasa o un altro dinosauro, ad esempio abbiamo Pantlasa in gioco, Pugnacius che ha 6 di Toughness, lo facciamo efimerare nel turno di un opponent così da poter discoverare. È un altro modo appunto per far value col nostro Commander. E in più funziona anche da protezione. Abbiamo Flawless Maneuver, questa qui l'ho sbustata con il set di quest'estate su Commander, c'è l'unboxing su Instagram, non YouTube, così per flexare. Anche questa qua l'ho sbustata, bella foil, la croma, queste due mega azzarre, e possiamo passare direttamente alla sezione Rimozioni, che sono belle che collegate a un sacco di creature, tipo i Foraggeri, ottima aggiunta per la Tribe Dinosauri proveniente dal Precon. Abbiamo da spada a spighe, in questa versione giappo, lo sapete che mi piacciono un sacco queste art di Strixhaven. Raptor Furenti, questa la leggo perché è brutale per dinosauri, costa 5,5-5 travolgere, ogni qualvolta viene inflitto danno a un dinosauro che controlli, quel dinosauro infligge altrettanti danni a un qualsiasi bersaglio che non sia un dinosauro. Non sono una rimozione, ma anche direttamente una finisher, potenzialmente. Swooping Pteradakoso, non lo pronuncerò, questa è un'altra forma di rimozione che possiamo tra l'altro anche ripetere, superforte, non abbiamo tantissime creature con volare, ma già di base lui entra e fa pseudorimozione, non ha fatto male. Kogla e Gidaro, questo mega ciccione con arte spettacolare, tra l'altro anche tartaruga e scimpanse, non solo dinosauro, quindi proprio un benessere incredibile, che ci fa sia rimozione per creatura, ma anche col discard, che forse qua non si legge tanto bene, ci permette di togliere artefatto incantesimo, quindi assolutamente rilevante anche con la funzione discard. Ma andiamo avanti, perché continuiamo con le nostre interazioni con Farewell, che è una vratta che resetta tutto totalmente. Ora, il nostro piano è riempire la board di dinosauri, ma le vratte comunque vanno, secondo me, giocate, perché possono assolutamente servire in alcune partite, resettare per poi ripartire. E Farewell è sicuramente la mia vratta preferita per Cormander, perché ci permette di resettare, non in maniera brutale come il Cyclonic Rift, ma comunque resetta, togli artefatti, creature incantesimi e cimiteri. Passiamo alla parte Value, con Roaming Throne, carta che ha, come dire, fatto discutere durante Ixalan, e che confermo è molto buona. Vi specifico subito che con Pantlazza, essendoci il vincolo di poterlo fare solo una volta per turno, non triggera due volte con Roaming Throne, ma di base giochiamo un sacco di dinosauri con abilità che triggerano, e quindi Roaming Throne è un ottimo generatore di value. Carta super che tendenzialmente io gioco in tutti i miei deck, perché anche banalmente Ragavan Voltron dico pirata e il trigger delle spade triggera due volte. Brutale, questa carta super forte. Value, ecco, questo è uno dei motivi per cui gioco Pantlazza, perché giocare creature non dinosauri è meno punishing, gioco meno dinosauri e mi sento meno forzato a usare dinosauri rispetto a Gishat, che ha una componente di deck building per poter essere efficace, e quindi posso giocare una carta devastante come Sentinella di Esper, che appunto è un buonissimo modo per pescare. Abbiamo poi Up the Beanstalk, questo l'ho deciso di inserire perché lo giocavo in Historic Brawl su Arena, mi sono trovato super bene, e quindi ottima carta che triggera sul cast, quindi con i Discover triggera. Abbiamo poi Progetto dei Guardiani, tecnicamente in Commander per ogni creatura che entra in gioco peschiamo, e tra l'altro, vi ricordo, sono tutte con costo di mana inferiore a 4, quindi con Pantlazza, eventualmente, se abbiamo fortuna, possiamo discoverarle direttamente. Abbiamo poi l'Earthshaker Dreadmaw, l'evoluzione del mio amato colossal Dreadmaw, quando entra nel campo di battaglia pesca una carta per ogni altro dinosauro che controlli, quindi quando facciamo una giga board, giochiamo il Dreadmaw e ci riprendiamo tutte le carte in mano che ci spettano, perché essendo questo di base un mazzo ramp, come sempre il problema è che ci tendiamo a svuotare un po' la mano, quindi ho dato abbastanza rilevanza al card draw, anche con la carta che abbiamo visto prima. Ma vediamo ora i tutori, eh eh eh, signori. Tutore illuminato, avete notato che la componente ramp dei nostri artefatti è molto alta. Tutore illuminato ci permette di andare a tutare un giga artefatto, come Mana Crypt banalmente, e poter quindi lanciare il prima possibile il nostro amico Pantlazza, o i dinosauri ciccioni che stiamo per vedere. Quindi, tutore illuminato, ottima carta, ovvio non ci prende le creature, è ovvio non prende proprio tutto, però anche in cantesimi, abbiamo visto che abbiamo modi per generare value, se abbiamo svuotato la nostra mano per rampare e topdechiamo il tutore, turno dopo riusciamo, come dire, a ricreare un po' di situazione spicy. Spicy come il Worldly Tutor, carta che c'è poco da dire, tutora, e volendo uno la può tutorare, mettere on top e poi discoverarla con Pantlazza o un altro dinosauro. Quindi questo mettere on top è molto rilevante. Sylvan Tutor fa la stessa roba, vado molto fiero di quest'art del Signore degli Anelli, volevo avere un art del Signore degli Anelli nel mio mazzo commander principale, e direi che Sylvan Tutor non è affatto male. E infine, come ultimo tutore, vediamo Savage Horde, questo tutore fa cose sporche. Ora, costicchia, carta di Jurassic Park, con una delle sfide più emblematiche, Spinosaurus vs Tyrannosaurus, Rex. Questa sorcery costa due incolori, due verdi, come costo addizionale, sacrifica una creatura con power 4 o superiore, cerca una carta creatura dinosauro, mettila nel campo di battaglia, e poi rimischia il mazzo. Guadagna indistruttibile fino al tuo prossimo turno, quindi fa un giro di tavolo indistruttibile. adesso passiamo alla sezione creature ciccione che vincono la partita, e partiamo subito con la combo più sgarbata che possiamo fare in assoluto, cioè con Savage Order andare a prendere Apex Altisaur, che costa agili 9 mana, 10-10, quando entra nel campo di battaglia, lotta con una creatura che non controlli. Quando è in rage, quindi quando subisce danno, lotta con un'altra creatura che non controlli. Quindi dandogli indistruttibile, con ad esempio il Savage Order, facciamo tutta la board, cioè si divora tutta la board, questo simpatico brontosauro, che sembra così tranquillo, e invece è pronto a sbranarvi anche amici e famiglia. Ma veniamo a noi, col ghisciattone, che è pur sempre in panchina, però è un nostro giga payoff. Questo ghisciat ci sono estremamente legato, perché è un alter che mi ha fatto Berta, che continuo a ringraziare, vi lascio il link al suo profilo con tutte le sue magiche creazioni, e vedrete dopo nella sezione terra, perché oltre a ghisciat mi ha regalato anche una montagna, una foresta e una pianura, che vi faccio vedere dopo. Ovviamente a tema dinosauri, quindi ghisciattone in panchina, ma sempre in formissima. Flaming Tyrannosaurus, questa carta del Dr. V, è super, 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 super sinergica, stavo guardando quanto ero di registrazione, non era un troppa enfasi, sì, 20 minuti, ci sto mettendo un botto, speravo di meno, ma ve l'ho diviso in sezioni. Comunque, Flaming Tyrannosaurus, cosa fa? Ogni qualvolta lancia una magia da un qualsiasi posto, che non è la tua mano, infligge tre danni a un qualsiasi target, quindi funziona da interazione. E in più prende un segnalino più uno più uno. Quando muore, infligge danno equivalente alla sua forza a ogni avversario. Funziona da Winkon, non l'ho messo nella sezione rimozioni, ma è potenzialmente una rimozione che si ripete grazie al discover di Pantlazza, lui diventa ciccionissimo e può sparare un botto di danni. Abbiamo poi il buon Galta, carta che è super gigacicciona e costosa, che se riusciamo a lanciare abbiamo la possibilità di discoverare 12, e vengono cose sgarbatissime. Il buon Etali, che se avete visto i miei ultimi video su YouTube, su Magic Arena, sapete quanto amo Etali, e quindi non potevo non avercelo. Foil de Busta, con l'art figa. Raga, io amo Etali. E ovviamente in Commander è tremendo. È devastante. In Commander, se non te lo counterano, se risolve, se... distrugge tutto. Commander, questa... giocate Gruul, dovete giocare Etali. Vediamo poi il buon Horde Dracosaur, carta che mi piace un sacco, che sto anche sperimentando un po' su Magic Arena, e che qua ovviamente funziona super bene, in quanto dinosauro, che costa poco, e che... cioè poco per gli standard dei dinosauri, e che fa un botto di roba. Revenus Tyrannosaurus, carta non super sinergica, ma è pur sempre il T-Rex di Jurassic Park. Vi ho spoilerato il mio, Galtas Tompilicious. Arte stupenda. Che quindi, anche qua, non potevo non mettere. Il buon Tyrannosauro Foil, cioè come faccio a non giocare un mazzo dinosauri, senza il... cioè non puoi non giocare, cacchio di T-Rex, in un mazzo dinosauri, quindi vergognatevi, se... se giocate Dinosauri in Commander, e non avete il Tyrannosauro. Il buon Galta, questa Art Secret Layer, non rende tanto col giochino dietro, che non ho fatto, perché... poi si vede dietro, giustamente. Ora non riesco a reinfilarlo, però mi fa troppo ridere. Cioè il concept di questo Secret Layer è fighissimo. Altro modo per pescare, perché ci rende monarca, il Regal Bimoth, ma è anche un modo per raddoppiare agilmente il nostro mana. Raddoppiamo il mana, siamo contenti, facciamo più dinosauri, come il buon Zakama. E qua, Zakama è molto più forte, secondo me, in questo deck, rispetto a Gishat, perché il suo trigger, che stappa tutte le terre, lo fa solo se lo abbiamo lanciato. Discover e lanciare, comunque. Invece con Gishat, spesso mi succedeva che attaccavo, lo giocavo come un 9-9, ma avevo già tutto tappato, perché avevo magari giocato Gishat, e non potevo attivarlo subito. Qua invece si fanno cose scomode. Voi direte, sì, anche in Gishat potevi lanciarlo dalla mano, però non lo so, mi piace di più qua. Tirannax Rex, con questa art zarrissima. Carnage Tyrant, ora, quest'art è di K. Walker, che è uno dei miei artisti preferiti di Magic, e quest'arte è stupenda, di questo Secret Layer, bellissima. Galta e Maveran, qua anche super interessante, Discover 12, ma che ve lo dico a fare. Displacer, Displaced Dinosaur, ora, questa carta di base non è super sinergica con l'idea del mazzo, però di Historic Spell ne abbiamo parecchie, e in Late trasforma tutti i nostri artefatti ramp in Dinosauri 7-7. attenzione che dice ogni qualvolta un permanente historic non dice non token, quindi anche i treasure che creiamo diventano dinosauri. Brutale, questa in Late è tremenda. Dinosauri on a Spaceship, altra carta del buon Dr. Wu, bellissima, che funziona anche da Lord, ed è interessante anche il Suspend. Passiamo ora alle terre, così con questa Cavern of Soul, anch'essa, sboostata sul canale, nel momento in cui ho aperto il Collector Booster. la Symbiosis, che è un'altra carta super figa, perché funziona da terra, funziona da spell, e può essere discoverata, e può succedere sta chain che discoveriamo la Symbiosis. Ancient Tomb, per essere dei maledetti flexatori di carte costose, e in più Giga Ramp. Saga di Urza, abbiamo un sacco di artefatti da tutorare, principalmente Sol Ring o gli artefatti a zero. Boseiju come interazione contro artefatti, terre, qualsiasi roba ci serva, con la buona Boseiju, Commander se giochi di le verde, so che è super costosa, ma cambia la vita. Combat Tower a tema Dinosauri, anch'essa sboostata, Yavimaya per fixare un po' il mana, un po' di terre, che ci danno più colori, e tra l'altro Piazza degli Eroi non è affatto male. Vediamo un po' di Fetch, qua Fetch di colore, con questa allegra aridmesa, che come vedete è un po' rovinata, perché questo è stato il mio regalo di laurea, lontano 2017, da parte dei miei amici, bel regalo che si è decisamente svalutata, agli occhi del mercato, non agli occhi miei, perché ovviamente così ha decisamente più valore, per me con queste firme. Vediamo poi un po' di terre doppie, e facciamo una bella carrellata, terre doppie, Jetmere è sicuramente la carta che vogliamo andare a speciare, andare a trovare nei primi turni, quando non abbiamo bisogno di mana immediatamente, perché è speciabile, e in francese qua sono andato sul risparmio, rispetto alle altre carte. Abbiamo un po' di Shockland, terre doppie, terre che entrano in gioco stappate, sei avversari, questo è un po' il mio mix di terre, poi ditemi anche voi cosa ne pensate. Passiamo infine alle terre basic, basic, vi faccio vedere prima le tre che mi ha donato il buon Berta a tema dinosauri, raga, sono spettacolari, spettacolari, oh, si vede la mia faccia, il mio naso, non ci ho fatto caso solo ora, e rese meno spettacolari dal mio naso, però allo stesso tempo ammetterete che me le invidiate, me le invidiate, e infine un po' di terre base. Sulla questione terre base, sì, c'è anche quelle dei dinosauri, e poi ho messo un po' di... ah, questa foil, direi che non è male, e ho messo poi una serie di terre che mi piacevano. Sulla questione terre, questo è il mix che ho trovato io, non gioco le dual per ora, ma un giorno le giocherò anch'io. Ora, la lista che trovate in descrizione è in continuo aggiornamento, questo è quello che sto giocando ora al momento del video, ma visto che è un deck che appunto gioco un botto, continua a fare cambi, upgrade, eccetera, quindi la lista che trovate in descrizione è sempre aggiornata. Come vi ho detto, farò un contenuto anche per spiegarvi il motivo per cui io ho fatto questo switch al buon Pantlazza, che non mi sta deludendo affatto, anzi, il mio problema è che da quando è uscito Pantlazza faccio fatica a giocare gli altri miei deck perché mi piace troppo. Detto questo, se questo contenuto vi è piaciuto, vi ricordo che il migliore modo per supportare il canale è ovviamente guardare il video, ma anche lasciare un like e un commento, fatemi sapere se volete altri contenuti, vi ricordo la mia collaborazione con Cartrader che è anche un modo per supportarmi, ma è anche un modo per voi per fare un bel upgrade nel momento in cui comprate. In particolare per Commander trovare queste cartine da dei seller non è affatto facile e io ve lo dico, Cartrader ormai è un annetto che lo uso e ti permette di trovare davvero carte impossibili. Ci vuole un po' più di tempo, ma secondo me ne vale la pena. Ora, mazzo super costoso, lo so, quindi è un weird flex questo video che ho fatto in questa modalità boomer, però sono curioso di sapere se volete vedere altre deck tech dei miei altri due mazzi commander ve l'ho citato Ragavan, Voltron e anche Yuriko Tiger Shadow che prima era Grogoro adesso l'ho trasformata in Yuriko perché è un pochino più cattiva e ho bisogno di un altro deck a power level alto come Pantlazza, però fatemi sapere se vi può piacere come formato. Ci tenevo un po' a flexare le mie carte che in questi anni ho immagazzinato e quindi, boh, aspetto un vostro feedback oppure insulti, ma nel dubbio noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, e tra l'altro le outro arriveranno, sto rifacendo, sto facendo anzi un rebranding del canale che comporterà il ritorno di intro e outro, quindi questa è l'outro. Ciao!